è andata così ho fatto la birra l'ho fermentata e l'ho imbottigliata poi con le feste di mezzo sono corso a spedirla convinto che non sarebbe mai arrivata in tempo per il concorso che era a firenze poi con tutta calma l'ho stappata e ho assaggiato la prima bottiglia quindi oggi come promesso parliamo della porter che ho mandato al concorso per un brewer di birraio dell'anno io sono lucio questo è un brewing diary e dopo la sigla iniziamo dopo la giornata birraio dell'anno di cui racconto nel video della settimana scorsa che comunque è in descrizione se te lo sei perso mi sono arrivate le schede di degustazione e devo dire che sono state molto veloci ad arrivare infatti già il giorno dopo le avevo leggendole la prima cosa che ho notato è stato il nome di uno dei giudici che ha valutato la mia birra e io quel nome lo conosco quindi oggi facciamo una bella chiacchierata con proprio con daniele il giudice che ha valutato la birra e quindi come detto eccoci qui con daniele che ha scritto la scheda di degustazione del concorso home brewing di birraio dell'anno sei uno dei pochi fortunati ad aver ricevuto la mia scheda con la matricola ufficiale che mi è stata affidata dal dal bcc e 44 88 io bene bene grazie di partecipare grazie a te soprattutto per avermi chiamato è stato un piacere anche perché non sapevo ovviamente che era la tua birra quindi questo questo va detto questo va sempre ricordato e niente quindi io direi parliamo un po' di questa birra visto che ehm intanto ti faccio subito. Allora la porter tra l'altro è stata particolarmente discussa ehm me la ricordo bene me la ricordo perché è stata la penultima la terz'ultima birra che abbiamo assaggiato nel flight insieme a Riccardo Greva Castagnetti ehm e ci eravamo detti dai concentriamoci su questa porta perché poi subito dopo sarebbero arrivate due birre acide e quindi volevamo avere un po' più tempo un po' più tranquillità e ne abbiamo parlato parecchio ne abbiamo parlato cioè ovviamente eh dopo aver compilato la scheda dopo aver esserci presi il nostro tempo per assaggiarla per degustarla e poi alla fine eh abbiamo un po' tirato le somme e ne abbiamo parlato parecchio più che altro perché adesso non è che te lo dico perché eh sono ospite nel tuo canale però è stata un po' come dire sofferta la valutazione perché c'è dispiaciuto quasi darsi quel 28 perché comunque 28 è un buon buon punto eh tutto sommato dai io sono contentissimo del 28 comunque e a questo punto io più che altro mi soffermerei su due aspetti che abbiamo un po' ehm evidenziato sia io che Riccardo nella scheda che c'erano due elementi particolarmente presenti uno che poi sotto certi punti di vista eh è la conseguenza dell'altro eh una forte tostatura che poi sfociava in una forte astringenza da malti tostati e questo è stato un po' il principale difetto diciamo così se proprio vogliamo dire per forza delle cose negative su questa birra perché il resto c'era il resto c'era capito che tu vuoi dire ok ok però tra i chiamiamoli anche difetti ho letto nella scheda anche del vegetale particolare quindi ah sì è stata la prima volta che dentro questa birra che è capitato di sentire il il sentore di piselli eh di un vegetale non la verde non saprei descriverla in maniera diversa però era a me mi mette proprio quella eh associato tra l'altro ai funghi che comunque non è sbagliato come sentore cioè nel senso che in una birra inglese ci può stare quel terroso quel sottobosco eh ovviamente non è che stiamo parlando di cioè non è che stiamo nel bosco andando a raccogliere i funghi con i piselli però insomma ci siamo capiti cioè quella situazione del scrittore che mi fa venire in mente una cosa sì sarebbe stato un bel piatto di pasta se fosse stato giusto e niente io intanto ho qui la birra che ho appena aperto quindi ah io appena per per l'occasione sto bevendo un american wheat che è una vera birra di merda come se vuol dire secondo secondo il mio stile e vabbè ma passiamo oltre passiamo ecco non avrebbe preso 28 ok io rileggo anche un po' la ricetta che avevo usato e nella ricetta per la parte tostata diciamo che ho abbondato un po' forse con malto brown malto chocolate quindi effettivamente la parte tostata probabilmente viene da questo nella mia testa sto cercando di recuperare tutti gli errori fatti durante la la cotta e come luppoli è la prima volta che usavo il fagol infatti nella versione precedente di questa porter io andavo sul sicuro ma poi ho dovuto cambiare i luppoli quindi ho usato il fagol invece dell'iscangolding e forse non conoscendolo ho gestito male per mia per mia piccola esperienza l'iscangolding è praticamente una garanzia a vita ma tutta la vita iscangolding infatti ce l'ho sempre nel magazzino tranne quella volta e quindi ho dovuto ripiegare e come lievito ho usato il nottingham della lallemand l'obiettivo era di concatenare questa cotta con una imperial south che poi non ho neanche fatto quindi ho sprecato il lievito ad alta attenuazione e non mi ha dato anche buoni risultati perché poi in scheda leggevo che da rivedere anche il profilo fermentativo e eventualmente il lievito quindi sì esatto cioè una cosa una cosa che emergeva e che comunque la birra era poco attenuato cioè che per carità ci sta per una birra inglese essere poco attenuato però era proprio dolce cioè nel senso che questo tostato poi alla fine che copriva tutto quando svaniva perché comunque dopo un quarto d'ora comunque la stringenza che comunque si era un po risolta rimaneva comunque questa dolcezza questo eccessiva ma proprio che poi per carità cioè per quanto riguarda i malti molto probabilmente è stato soltanto un uso dei malti speciali che non è stato correttamente bilanciato da qualche altra cosa dovevi prendere magari non so adesso non ho sentito tutta quanta la ricetta però se c'era del malto crystal magari avrei aumenterei leggermente le dosi su quel lato sì c'era crystal c'era anche un po di amber ma tutto in del cara e tutto in in dosi abbastanza ridotte tanto si vede un gatto che si 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 vede la coda e un ciro ma comunque poi alla fine pure guardando le i commento il commento di riccardo bene o male ci siamo ritrovati un po su questo aspetto della stringenza e del del tostato e vabbè è una porta cioè che comunque al di là di tutto ehm se la dovessi bere dentro un pub seduto al bancone molto probabilmente me ne perrai una me ne perrai due e non ci farei troppo troppo casa però purtroppo in sede di concorso eh dove effettivamente uno cerca di fare un'analisi più mirata più eh dettagliata anche eh un po più come dire se n'era ecco che comunque era una nota che doveva emergere tanto è vero che comunque ci tengo a dire che la birra comunque come voto ha preso 27 28 che secondo le valutazioni del BJCP comunque non stiamo parlando di una birra insufficiente anzi stiamo parlando di una birra buona molto buona eh certo non supera i 30 perché in Italia fondamentalmente siamo fissati che se supera i 30 allora è la sufficienza ma eh 28 comunque significa che è una birra molto buona significa che non ha difetti particolari e che che ha certo che ha centrato l'obiettivo poi manca l'effetto wow ma chi se ne frega non so se concordi concordo in pieno concordo anche sul fatto che al concorso si cerca sempre la birra migliore tra tutte quelle che ci sono quindi giustamente se anche quella più in linea con quello cioè con lo stile dichiarato eh piccola nota a margine su questo concorso eh noi ci siamo ritrovati come ti dicevo una birra Sour eh che abbiamo fortemente penalizzato ma era buonissima ma abbiamo fortemente penalizzato perché perché è inserita nello stile sbagliato eh veniva dichiarata adesso non mi ricordo i dettagli però veniva dichiarata come una birra British Stone Gale quando di fatto era una Flemish Flemish Redade cioè non era proprio non purtroppo molto buona se l'avesse se l'avesse iscritta nel nel nella categoria corretta l'hombreuer molto probabilmente avrebbe preso molto di più avrebbe preso Sì capita anche a me di sbagliare stile e capita anche ora lo dico faccio lo dico in presenza di un giudice BJCP capita di fare birre e decidere lo stile dopo e quindi mandarla al concorso in base a come sono venute le birre. Ah io quello sono un grande esperto poi però purtroppo puoi cioè devo andare bene come devo andare male e a me è sempre andata male. Ah beh anche a me. Grazie quindi Daniele per questa consulenza chiamiamola così. Grazie a te per aver partecipato al concorso io sono solo sono solo molto onorato comunque di aver avuto la possibilità di valutare una birra e una birra tua in generale. Ok grazie e niente ci ascoltiamo su Meshout Podcast col punto esclamativo col punto esclamativo. Quindi primo esperimento con questo lievito è andato un po' così dovrò controllare meglio le temperature di fermentazione capire un po' come lavora questo Nottingham della Lallemand ma comunque mi posso ritenere abbastanza soddisfatto. E anche per oggi è tutto ora ho una birra con un punteggio di 28 da bere visto che l'inverno sta arrivando e le mie scorte di birra scura stanno scarseggiando ci voleva proprio. Lascia un like per le birre scure e per i concorsi birrari iscriviti al canale per sostenerlo e alla prossima.